Allora abbiamo con noi la professoressa Maria Pia Abracchio che in particolare tratterà il tema del gender gap e carriere femminili nelle aree STEM e ci dirà a che punto siamo. Chi è Maria Pia Abracchio? Allora Maria Pia Abracchio la presento velocemente, laureata in farmacia, diplomata in tossicologia sperimentale, dottore di ricerca e medicina sperimentale. Ha vinto una borsa di ricerca post dottorato presso l'università di Texas a Houston e una borsa di ricerca presso l'università di Londra, University College London. Dal 2002 è professore ordinario di farmacologia presso l'università degli studi di Milano e dal 2003 responsabile del laboratorio di farmacologia molecolare e cellulare della trasmissione purinergica. Dal 2018 è prorettore vicario con delega alle strategie e politiche della ricerca. Io non sottrarrei altro tempo alla relazione, passerei direttamente la parola alla dottoressa Abracchio, solo un attimo per ringraziare lo sponsor di questa festa che è l'acqua di sasso vivo, oltre alla farmacia Bartoli che ha messo a disposizione il materiale per la disinfezione delle sale. Grazie a tutti e vorrei iniziare questa conferenza con un filmato, un filmato brevissimo di due minuti che vi dimostra il ruolo delle donne scienziate nei media. E quindi come sono valutate le donne scienziate nei media e cosa si fa? Quando c'è bisogno di un parere esperto, cosa si fa? Si va a consultare un uomo o una donna? In realtà, come vedete, nella maggior parte dei casi si consulta un uomo perché le donne non sono ancora ritenute affidabili e autorevoli nel campo della scienza. Quindi inizierò questa conferenza con un video e la terminerò con un altro video di tutt'altro genere che poi vi introduco più avanti. Quindi per far partire il video, cosa faccio? Questo è un video che è stato preparato dall'osservatorio di Paglia. Sì, sì, fanno pure partire, grazie molte. C'è ancora molto lavoro da fare. Il cammino della conoscenza è un cammino lunghissimo. Prima l'italiana a conquistare il torneo di Indian West. Molti degli esperimenti che facciamo molto sono sulla fisiologia umana. Non ce la facciamo più! Non so, mannaggia. Io sono preoccupata. Tina, senti da parlare? Ma io non ho pensato. Ci accontentiamo così. Mangia piccante. Non abbastanza. Poco. Poco. Ad ogni impasto. Poi vedrete che sarebbe molto meglio che vi vedrete più a lungo. Ho dato le dicchie, le panettone. La prima colozione, che non sarà più tupile. E poi se posso avrete qualcosa da parte. Rischiano di congelare i consumi. Sì, no. Sei bravissima. Tutti dobbiamo utilizzare la fotoproiezione. Puoi alzare presto al mattino e venire a godere. Un'ora in più di luce al mattino vuol dire 6-8 luna che aumenta molto più rapidamente. Non devo solamente guadagnare l'uro. Invece di guadagnare la salute della gente. Gli altri piranti, oltre un certo divento, sono pericolosi per la salute. Ma hai fluttato su internet? Eh sì, qualche volta sì. Un cosiddetto tradimento tecnologicamente assistito. Ho scomprato un computer. Ma lo scusate? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come avete visto, tutte le volte che viene chiesto un parere autorevole lo si chiede a un uomo. E questo va benissimo. Perché gli uomini esperti ci sono. Però quello che non va bene è che invece alle donne si facciano solo domande banali. e non si vada mai a cercare una donna esperta quando invece le donne esperte nei vari settori, come avete visto anche dalle conclusioni del video, ci sono e come. Ora, in realtà, le donne nella scienza ci sono sempre state fin dall'antichità, ma quello che non è stato preservato è la memoria del loro lavoro. Comeppure non è stato preservato è il ruolo che potevano avere nella scienza. E questo ruolo si inizia a scoprirlo proprio adesso. E qua vi farò alcuni esempi. Quello che vedete qui, Hidden Figures, è la locandina di presentazione di un film del 2016, tradotto in Italia, presentato col titolo Il diritto di contare, che racconta la storia del ruolo delle cosiddette Women Calculators, cioè le donne calcolatrici. Chi erano le donne calcolatrici? Erano delle donne che venivano chiamate, in questo caso, negli uffici della NASA, siamo intorno agli anni 50, quando inizia l'esplorazione spaziale, e c'è bisogno, non ci sono ancora i calcolatori, o comunque i calcolatori sono ancora molto indietro, e c'è bisogno di fare moltissimi calcoli matematici a mano, cioè proprio scrivendoli a mente, ma naturalmente bisogna farli in maniera molto competente e corretta. E siccome sono calcoli complicati, lunghissimi, che richiedono oltretutto continui controlli e molta pazienza, questi calcoli vengono affidati alle donne, ritenendo che, appunto, queste donne, che peraltro avevano una formazione scientifica di altissimo rilievo, come vedremo fra un attimo, potessero avere maggior pazienza nel fare un lavoro che era ritenuto dispendioso in tempo ed energia, e secondo, diciamo, i tempi, secondo l'epoca, poco qualificante per uno scienziato, no? Queste donne sono in realtà tre scienziate molto molto famose, sono Hesley Johnson, Meryl W. Jackson e Dorothy Wugan, sono le donne che hanno dato un contributo straordinario alla scoperta spaziale, vi dico solo che erano talmente brave a fare i calcoli, che molti degli astronauti, quando vennero introdotti i calcolatori, volevano che i conti dei calcolatori venissero controllati da queste tre donne, perché non si fidavano più dei calcolatori, ma sarebbero, hanno detto, se partiamo per lo spazio, soltanto se queste tre signore ci confermano che i calcoli delle ordite, delle ellittiche, del percorso che le dovremo compiere, è corretto, no? Quindi questo per dire come queste tre donne, nel silenzio, nel fare questo lavoro silenzioso, minuzioso, di grandissima pazienza, si sono in realtà conquistate la fiducia e l'autorevolezza da parte di tutte le loro colleghe. Naturalmente oggi i tempi sono cambiati e il lavoro fatto da queste tre donne è ampiamente riconosciuto, al punto che la NASA, la stessa NASA, dove questi tre signore hanno lavorato, pochi anni fa, nel 2019, ha intitolato una delle strade, degli headquarters di NASA, cioè dei quartieri generali di NASA, l'ha intitolato proprio a queste hidden figures, cioè figure nascoste, figure nascoste, cioè scienziate nascoste, che hanno dato questo contributo fondamentale, mai in realtà riconosciuto fino a tempi recenti, l'ha intitolato Hidden Figures Way, cioè la strada delle figure nascoste. Naturalmente le tre protagoniste, soprattutto una di loro, che al momento di questa intitolazione aveva ben 103 anni, hanno finalmente veduto e riconosciuto il loro lavoro. Anche se in realtà questo lavoro minuzioso, paziente e molto autorevole, che richiedeva una forte preparazione, era un lavoro che addirittura era stato auspicato, incentivato, sia dalla Costituzione americana, quindi dal diritto di uguaglianza, ed è un lavoro che è anche un diritto al contributo delle donne alla scienza, che è anche riconosciuto dalla nostra Costituzione, come da tutte le Costituzioni dei Paesi Democratici, con la differenza che però, pur essendo riconosciuto come diritto, molto spesso trova, fa fatica ad essere attuato, anche se in tempi di emergenza, qui per esempio viene citato un editto del presidente Roosevelt americano durante la guerra, lui emanò un editto che ribadiva molto fortemente la necessità di chiamare anche le donne e quindi di non fare alcuna distinzione, alcuna discriminazione di genere, di sesso, di etnia, di appartenenza, di ruolo sociale o politico nel coinvolgere le persone nella scienza. Quindi nel momento in cui c'era bisogno, le donne venivano chiamate e le donne, che hanno sempre da sempre avuto una passione straordinaria per la scienza, partecipavano a tutti i costi, cioè anche a costo di vedere il loro lavoro non riconosciuto adeguatamente. E questo non è l'unico caso, quindi il caso delle Hidden Figures, delle tre donne calcolatrici della NASA, ha ribellato, ha solo aperto il vaso di Pandora, ad una serie di studi successivi che hanno portato alla luce tantissimi contributi analoghi. Per esempio scopriamo, scopriamo in questo articolo, Temporary Measure, cioè misure temporane, che parla proprio delle donne calcolatrici, all'osservatorio di Greenwich, quindi qua siamo molto più indietro nel tempo, non siamo più negli anni 50 del 1900, ma siamo alla fine dell'Ottocento, che anche l'osservatorio di Greenwich, che aveva bisogno di fare calcoli astronomici molto molto precisi e accurati, ricorreva alle donne. Perché Temporary Measure? Perché il lavoro di calcolatore umano di solito veniva affidato agli studenti, ai giovani studenti delle scuole superiori, che erano temporary workers, cioè lavoratori temporane, che lavoravano durante l'estate con gli astronomi a Greenwich per aiutarli nei calcoli e questo ruolo viene pian piano soppiantato per tutta la durata dell'anno dalle donne, le quali donne a Greenwich in realtà nel tempo addirittura prevalgono, diventano numerosissime, lavorano molto bene, quindi non sono soltanto esecutrici passivi di calcoli, ma diventano loro stessi astronome, tanto è vero che usano il telescopio, classificano una grandissima miriade di stelle e addirittura si occupano di pubblicare i risultati delle loro ricerche creando così il background, cioè quindi la base proprio per la mappatura del cielo stellato, che noi abbiamo oggi e scopriamo che in parallelo più o meno negli stessi anni di Greenwich la stessa cosa succede all'osservatorio astronomico di Harvard dove di nuovo anche qui vengono reclutate donne per fare questi calcoli, donne che poi si rivelano estremamente brave ed affidabili. Ora in realtà le donne hanno sempre avuto una passione straordinaria per la scienza, adesso non abbiamo il tempo di cominciare dall'inizio, c'è proprio dall'antichità, vi porto solo alcuni esempi, sono sempre state presenti nella scienza, molto spesso a fianco o dietro scienziati famosi, che spesso erano membri della loro stessa famiglia, erano i mariti, erano i figli che si dedicavano alla scienza e che ricorrevano all'aiuto per i calcoli, per le illustrazioni scientifiche, per la classificazione dei reperti biologici, ricorrevano appunto alle figure femminili, le quali si accontentavano pur di partecipare alla scienza anche di questi ruoli minori, quindi molto spesso anche quando avevano una formazione universitaria, le donne tendevano ad assumere ruoli di tecnico, di routine, spesso lavoravano senza remunerazione, senza avere stipendio, un tipico esempio che vedete qui è quella di una delle fondatrici della paleontologia, la dottoressa Beit, quella vedete mentre scava a Betlemme, tirando fuori i denti di elefanti dalla terra o altri reperti di tipo paleontologico e classificandoli, costituendo, inventando di fatto per prima la archeozoologia, cioè proprio quindi quella branca dell'archeologia che si occupa dello studio, della classificazione dei reperti degli animali dell'antichità. Come vi dicevo era tutt'altro che insolito per queste donne lavorare a fianco di uomini stipendiati senza ricevere alcuna remunerazione, ci sono altri casi molto famosi, c'è quello di questo astronomo William Higgins, che era aiutato nei suoi studi, anche guidato in certe circostanze dalla moglie Margaret Lindsay Huggins, quando poi però, e questo lo vedete nella pubblicazione scientifica dei lavori che facevano insieme, nella pubblicazione scientifica compariva solo il nome del marito, raramente compariva anche il nome della moglie, questa era una cosa molto comune, ma le donne lo accettavano pur di poter partecipare in prima persona alla scienza, ad esempio oggi sappiamo che anche Einstein, anche la moglie di Einstein, che era una fisica molto brava, molto preparata, ha contribuito enormemente alle scoperte del marito, quindi il marito rimane una figura grandiosa, di assoluta eccellenza, ma a fianco a sé aveva una donna che lavorava con lui e che da fisica esperta come lui ha contribuito enormemente alle scoperte, inclusa la teoria della relatività. Senza poi parlare di quelle che io chiamo, non tanto le scoperte rubate, perché forse rubate è un termine un po' troppo forte, ma le scoperte, io dico, sottratte. Le scoperte sottratte cosa sono? Sono quelle scoperte fatte indubbiamente da donne, che però poi non sono state riconosciute a livello di comunità scientifica, no? Molto classico è il caso di Rosalind Franklin, Rosalind Franklin era una studiosa inglese, estremamente brillante, estremamente dotata fin da ragazza, che ha scoperto, e anche fra l'altro una dei primi rappresentanti del movimento femminista nelle scienze, perché lei è andata avanti, impassibile, nonostante le difficoltà a fare i suoi studi, Rosalind Franklin era stata chiamata da Wilkins, quello che poi contribuì a uno dei tre scienziati a cui è attribuita la scoperta di una struttura doppia elica del DNA, fu chiamata, giovane ricercatrice che si stava specializzando negli Stati Uniti, viene richiamata in Inghilterra da Wilkins, che in realtà la chiama all'Imperial College, dove stava inizialmente, perché voleva una mera aiutante, aveva bisogno di un tecnico che facesse le preparazioni del DNA su cui fare le fotografie, ma non voleva una collaboratrice, no? a pari livello, voleva semplicemente una persona che facesse al banco di laboratorio il lavoro, quello proprio che noi anche noi chiamiamo, no? In gergo il lavoro sporco al laboratorio, cioè quindi al banco di laboratorio che richiede molta pazienza, molte ore di lavoro, e costa anche molta fatica fisica. Quando Rosalind, richiamata in Inghilterra, si accorge di questo, rifiuta la collaborazione con Wilkins, e decide di andare avanti da sola, lei era molto esperta nel fare cristallografia a raggi X, e infatti fu la prima, insieme con il suo giovane collaboratore Gosling, a fotografare il DNA e a dimostrare, lo vedete molto chiaramente dalla famosissima foto numero 51, a dimostrare la struttura doppia elica del DNA. Ma poi cosa succede? succede che c'è molta invidia in quel periodo, in quel momento, nell'ambiente scientifico inglese, perché ci sono altri due grandi scienziati, Watson e Crick, che stanno lavorando anche loro alla struttura del DNA, ma non riescono a venirne a capo, perché fanno degli errori, no? nel simulare la struttura, succede che Gosling, l'allievo di Rosalind, involontariamente, ingenuamente, per entusiasmo, fa vedere la famosa foto numero 51 a Wilkins, e Wilkins, senza informare Rosalind, mostra questa foto a Watson e Crick, i quali la guardano e dicono, wow, proprio quello che ci mancava, no? tanto è vero che pochi anni dopo, il premio Nobel per la scoperta del DNA viene conferito a Watson, Crick e Wilkins, e Rosalind non viene neppure nominata nel premio Nobel, no? quindi questo è uno dei tanti esempi di scoperte sottratte, e ce ne sono anche molte altre. come pure, per fortuna, ci sono delle splendide eccezioni, no? delle splendide eccezioni di ampio coinvolgimento, ampio riconoscimento del ruolo delle donne scienziate, e questo è per esempio il caso eclattante, direi l'unico della famiglia Curie, dove Pierre e Marie Curie lavorano insieme, lei è polacca, lui francese, lavorano insieme alla scoperta della radioattività naturale, tanto è vero che questo riporta poi a vincere il premio Nobel per la fisica, insieme con l'altro chimico e fisico Becquerel, addirittura qualche anno dopo la stessa Marie, Marie Curie, vince un altro premio Nobel per la chimica, infatti rimane tutt'oggi l'unica donna, non solo aver vinto due premi Nobel, ma ad averlo vinto in due materie diverse, no? nella fisica e nella chimica. E anche qui ci sono molti racconti, no? di come funzionava questo, questa, diciamo, questo sodalizio fra Pierre e Marie, che si scambiavano informazioni, lavoravano moltissimo insieme, anche se molto spesso, nelle foto, anche proprio quelle da museo, no? si vede che seduta al banco di lavoro c'è sempre Marie, mentre Pierre, come dire, coordina, e creano comunque un ambiente estremamente positivo, tanto è vero che perfino la figlia, la figlia dei due, Irene Curie, insieme con il suo marito, Frédéric Giglio, anche loro scoprono anni più tardi, nel ventennio dopo, la radioattività artificiale e vincono anche loro il premio Nobel per la chimica, no? Quindi famiglia felice, nelle quali la scienza è dominante ed è condivisa senza gender gap, senza bias di età, senza nessuna barriera, è condivisa da tutti. Ora, com'è adesso la situazione attuale? Potremmo ancora dire molte cose sulla storia della scienza, nel frattempo vi segnalo, se vi può interessare, che sto scrivendo un libro che dovrà uscire a settembre da Franco Angeli, un libro, diciamo, dove saremo coautori a pari merito, la sottoscritta e la professoressa Maria Elisa Danico, che è una costituzionalista, in cui parliamo proprio del lungo percorso delle donne nella scienza per raggiungere la parità. E questo libro, in questo libro raccontiamo molto di più anche della storia, perché oggi evidentemente noi abbiamo poco tempo, quindi non possiamo raccontarvi tutto, ma ci sono tantissimi esempi molto interessanti. Ora, com'è la situazione al momento, no? In questo momento. Ora, le cose sono per fortuna molto cambiate, che c'è stato negli ultimi decenni l'ingresso massiccio delle ragazze nei corsi universitari, soprattutto nei corsi delle cosiddette lauree STEM. Cosa sono le lauree STEM? Sono Science, Technology, Engineering e Mathematics, quindi sono le cosiddette scienze dure, che sono quelle scienze dove notoriamente, no? Con un preconcetto di base si ritiene che le donne siano meno portate, che siano più svantaggiate rispetto ai maschi e le ragazze invece entrano prepotentemente in tutti i rami della scienza, anche in quello STEM. Quello che vedete al centro, nel rettangolo, è la percentuale di suddivisione degli studenti maschi in azzurro e in rosa giallino le femmine, nei vari, diciamo, nei vari percorsi universitari. Come vedete, le ragazze sono molto presenti in Education, cioè le scienze della formazione, sono molto presenti in Arts and Humanities, sono molto presenti oggi, per fortuna, anche in Health and Welfare, cioè quindi nel tutto quello che riguarda l'ambito salute, non solo la medicina e chirurgia, ma tutte le professioni sanitari, per esempio l'infermieristica è altissima percentuale femminile, sono presenti anche praticamente metà e metà nel Business Administration Law, quindi anche nelle leggi, nell'ingiurisprudenza ed economia, nelle scienze sociali, ma dove trovano ancora difficoltà, sono in due ambiti particolari. Il primo che vedete in alto, l'ingegneria, dove le ragazze ancora rappresentano solo meno del 29% di tutti gli iscritti alle lauree ingegneristiche, e ancora peggio, l'ultima colonna, l'ultimo histogramma in basso, nelle scienze informatiche. Nelle scienze informatiche c'è il grande gap, quello che ormai noi chiamiamo il digital gender gap, perché soltanto il 13% degli studenti iscritti all'aula informatiche di primo e di secondo livello sono ragazze. Tutti gli altri sono ancora maschi, perché c'è ancora questa difficoltà, sono ambienti ancora molto maschili, come pure non sembra, ma sono ambienti molto maschili, anche le scienze, per esempio, la medicina veterinaria, che è considerata ancora oggi una scienza da uomo, e questo, come vedremo fra un attimo, ci causa anche notevoli problemi, il fatto di avere questo digital gap. Questa asimmetria, asimmetria nella distribuzione, ragazze e ragazzi nei corsi di laurea, poi noi ce la ritroviamo pari pari nei corsi di dottorato di ricerca, quindi qua vedete riportato, evidenziato sempre nel rettangolo rosso, vedete le percentuali di distribuzione donne, uomini, ragazzi e ragazze nelle varie discipline. E se guardate bene il cerchio, con la freccia, nelle ICTs, cioè quindi nelle scienze informatiche, le ragazze sono ancora pochissimo presenti, anche nei dottorati di ricerca, rappresentano solo il 28,7% delle ragazze ammesse ai corsi di dottorato di ricerca, che rimangono ancora dei corsi fondamentalmente maschili, il 71% è fatto da maschi. Ci sono altri abiti dove c'è ancora un gap, ma un gap così forte, oggi lo ritroviamo, soltanto, come vi dicevo, nelle materie ingegneristiche, in quelle informatiche. Ma poi che cosa succede? Cosa succede quando queste ragazze e ragazze si sono laureati? E qui vediamo delle cose interessanti. In alto, nei primi stogrammi, vediamo il tasso di occupazione. Il tasso di occupazione qua è suddiviso occupazione maschile e femminile per corsi di laurea primari, laurea triennale, magistrale, laurea a cinque anni o a ciclo unico, oppure dottorato di ricerca. Cosa vediamo? Vediamo che a uno, a tre anni, a cinque anni, il tasso occupazionale è ormai abbastanza simile ai maschi e femmini, perché i ragazzi sono molto bravi, perché i ragazzi si laureano con voti molto spesso non inferiori a quelli degli uomini, tutt'altro, molto spesso in tempo, cioè nei tre anni e cinque anni canonici, quindi sono molto studiose e molto produttive e superano molto bene gli esami e quindi si presentano bene al mondo del lavoro, tanto è vero che a un anno, tre anni, cinque anni trovano occupazione in maniera paritaria rispetto ai maschi. Però se andiamo a vedere i loro stipendi, e questo è invece la serie di histogrammi di sotto, gli stipendi crescono in una maniera differente, no? e comincia a esserci già un anno, a tre anni, a cinque anni dalla laurea, un gap stipendiale, no? Un gap stipendiale che significa che le ragazze all'inizio vengono assunte con lo stesso stipendio di un maschio, no? Di un ragazzo. Ma poi man mano che passano gli anni, tre anni, cinque anni dalla laurea, vogliamo anche, a causa di scelte personali fatte dalle ragazze che poi finiscono per penalizzare, no? Molto semplicemente sposarsi, farsi una famiglia, spesso questo si traduce in un gap stipendiale che è molto forte già a cinque anni. Vuol dire che a cinque anni di distanza dalla laurea, anche se sono occupate, le ragazze in genere prendono stipendi del 20-30% inferiori a quelli di un uomo. E questo dipende sia dal fatto, ci sono indagini molto accurate in questo senso, che vengono applicate e offerte alle ragazze dei contratti meno convenienti rispetto ai maschi, sia dal fatto che le ragazze rimangono agli stadi di carriera più bassi e quindi ovviamente non potendo evolvere non ricevono neanche aumenti di stipendio, no? Quindi è una miscela di questi due casi, anche se come vedete dalla barzelletta, no? In realtà le ragazze sono grandissimi lavoratrici, tanto è vero che questa signora dice stavo cercando una persona molto motivata che faccia il lavoro di due uomini e lei risponde ah, è un lavoro part time perché ero preparata a molto di più, no? Ora, e infatti che cosa succede? Succede quella che noi esperti chiamiamo l'inversione a forbice, no? L'inversione a forbice e quindi il raggiungimento del cosiddetto tetto di cristallo oltre il quale le donne e le ragazze non possono andare, non possono arrabbicarsi, no? Anche se, come vedete dalla vignetta qua, sono molto spesso le donne che supportano tutto il lavoro all'interno o molto del lavoro all'interno di tante organizzazioni, di tante aziende, no? reggendo magari il peso proprio anche organizzativo di tanti aspetti lavorativi mentre, come vedete dalla vignetta gli uomini dicono ma dov'è questo tetto di cristallo? Io non me ne sono accorto, certo perché non riguarda loro ma riguarda le ragazze e come sia, no? Questa evoluzione lo vedete molto bene da quei grafici il grafico rosso-arancio si riferisce alle ragazze il grafico blu ai ragazzi e sotto, invece, sull'asso delle X sono riportate le varie posizioni prima scolastiche e poi lavorative, no? Quindi all'inizio, quando inizia questa indagine siamo a livello, per esempio, di formazione di laurea, di primo livello di laurea triennale vedete che addirittura lì le ragazze sono più numerose rispetto ai ragazzi, no? Andiamo avanti secondo pallino le ragazze si laureano prendono la laurea quinquennale e vedete che ancora le ragazze superano i ragazzi molto spesso, no? come numero nelle lauree quinquennali poi il punto dove vedete, no? convergere quasi le due curve il terzo pallino si riferisce al dottorato di ricerca in cui, come vedete la differenza di numero ragazzi e ragazze si sta già riducendo, no? poi si va avanti ancora un pochettino e quando poi si apre come diciamo noi in gergo la forbice e quindi le due rette proprio divergono nettamente quella maschile verso l'alto e quella femminile verso il basso è il momento in cui iniziano le carriere le vere carriere scientifiche, no? per cui il punto di incrocio dove c'è la parità vedete che dice proprio un punto di incrocio è il momento della, per esempio assunzione all'interno degli atenei o degli enti di ricerca come ricercatore, no? quindi come ricercatore volevo farvelo vedere meglio vabbè, come ricercatore siamo pari ma poi quando si deve diventare professore associato o professore ordinario ecco che compare la forbice e il numero di maschi che riescono a raggiungere professore associato e professore ordinario si discosta sensibilmente invece dal numero di ragazze il cui numero all'interno delle categorie di ordinario di associato e poi di ordinario si riduce progressivamente tanto è vero che anche oggi la media nazionale fra tutti i professori ordinali d'Italia in tutte le materie vede le donne presenti solo per il 28% tutti gli altri professori ordinari che come sapete il massimo grado, no? all'interno delle carriere è maschile ora, vi dicevo prima del digital gender gap, no? cioè di questo gap diciamo nella digitalizzazione nella educazione digitale che è molto a sfavore delle donne questo è un grossissimo problema tanto è vero che proprio per quello che riguarda l'intelligenza artificiale e tutte le materie che riguardano l'ICT quindi l'informatica Unesco proprio recentemente ha lanciato un appello e dicendo basta disegnare algoritmi soltanto da parte dei maschi perché questi algoritmi anche involontariamente contengono dei pregiudizi che danneggiano le donne ora vi spiego meglio questo che cosa vuol dire questo deriva proprio dal digital gap cioè dal fatto che nel mondo del digitale quindi anche nel mondo professionale nella professione che coinvolge le scienze digitali soltanto il 22% dei professionisti su base mondiale è donna tutti gli altri sono uomini perché non abbiamo formazione non abbiamo donne che entrano nella formazione non abbiamo donne che escono da questa formazione quindi c'è questo forte gap infatti soltanto circa il 20% delle donne che insegnano l'informatica negli atenei soltanto il 20% dei docenti sono donne come pure la cosa se andiamo a guardare come sono suddivisi il personale maschio-femmina all'interno di aziende che operano proprio fortemente nel digitale Facebook e Google per esempio vediamo che la percentuale di professioniste femminili sono bassissime addirittura inferiore al 20% 15% addirittura 10% per Facebook e Google rispettivamente qual è il problema? il problema è che come voi sapete Facebook Google e moltissime altre imprese oggi svolgono analisi di mercato che si va sui dati disponibili voi sapete che noi abbiamo in questo momento un'enorme varietà di dati da analizzare una quantità enorme e quindi il problema dei big data della data analysis è uno dei problemi più grossi e fra l'altro non è solo un problema è un challenge è una sfida molto importante molto positiva perché da un'ottima analisi di questi dati noi ricaveremo informazioni utilissime per migliorare le policies per migliorare le politiche sanitarie per migliorare le politiche educazionali cioè nell'istruzione per migliorare la nostra interazione con l'ambiente quindi risolvere i problemi climatici il cambiamento climatico così via per migliorare e trovare fonti alternative di energia quindi tutto quello che noi stiamo cercando di fare in questi anni anche le cosiddette transizioni digitali transizione ecologica il green e quindi creare delle condizioni migliori per il futuro dell'umanità dipendono dall'analisi di questi dati e dal disegno degli algoritmi gli algoritmi sono quasi sempre disegnati da maschi e quegli maschi anche involontariamente introducono dei parametri unbiased come diciamo noi proprio in gergo e cioè come dire parametri condizionanti che però lo sono inconsapevolmente perché nel disegno dell'algoritmo il computer fa una serie di domande all'operatore e a queste domande si può rispondere con diverse sensibilità in diverso modo e se gli algoritmi vengono disegnati solo da maschi e quindi le domande vengono risposte solo da maschi succede che gli algoritmi vengono impostati in una maniera che facilita involontariamente quindi è molto importante dire che questo non è un atteggiamento spesso voluto e non è una discriminazione voluta è una discriminazione che sorge naturalmente da questa anomalia da questa simmetria cioè dal fatto che a disegnare questi algoritmi sono prevalentemente maschi e che cosa succede? Succede che molti di questi algoritmi sono quelli che per esempio vengono usati per la ricerca del personale e tant'è meno che addirittura perfino Amazon ha dovuto retrare alcuni algoritmi che aveva fatto inserire sui suoi siti per cercare personale perché si è accorto a posteriori che questi algoritmi nell'interazione con l'operatore a seconda che fosse donna o uomo quando un ragazzo in cerca di lavoro una ragazza in cerca di lavoro entrava in questi siti venivano poste delle domande che privilegiavano i maschi e quindi involontariamente discriminavano invece le ragazze tant'è meno che addirittura Amazon ha ritratto questi algoritmi e li sta facendo ridisegnare facendo lavorare insieme operatori maschi con operatori femmine proprio perché è dalla ricchezza culturale di entrambi gli approcci che deriva poi il giusto e questo problema l'ha avuto anche lì in Kerim è esattamente lo stesso problema e quindi è un problema che per fortuna ci si è posti dopo questo allarme dell'UNESCO che ci dice molto chiaramente che l'analisi dei big data deve essere fatto con algoritmi che sono disegnati in maniera non discriminatoria e disegnandoli appunto in modo paritario maschi con femmine ma questo non vale fra l'altro è molto importante questo perché non vale solo per il gender gap ma vale anche per le differenze di etnie o per le differenze di religione si sono accorti ad esempio sempre LinkedIn ed Amazon che involontariamente questi algoritmi preferivano lavoratori maschi e bianchi e discriminavano involontariamente lavoratori di altre etnie di altri colori o razze anche se ormai questo termine non si deve più usare perché non è corretto usarlo ma di fatto discriminavano le disuguaglianze o le minoranze quindi capite la grandissima importanza di rilevare questi errori di porre riparo a questi errori disegnando questi algoritmi che decideranno poi il nostro futuro in maniera più possibile indipendente ora ultimissima cosa le donne nei media le donne nei media noi siamo partiti da lì abbiamo visto che i media sono fra i 12 settori decisivi per il miglioramento della condizione femminile questo l'ha affermato loro addirittura nel 1995 come per dire se ci sono delle eccellenze queste vanno portate all'attenzione dei media perché si deve far vedere che anche le donne sono brave quindi benissimo i maschi bravi nessuno vuole contrastare questo anzi ma i maschi sono ancora più bravi se lavorano con i loro quindi se il lavoro lo si fa insieme ora in alcuni ambiti abbiamo fatto notevoli progressi perché per esempio siamo vicini all'equilibrio di genere con un'ampia inclusione al femminile in alcuni aspetti dei media per esempio nella conduzione dei programmi televisivi dove circa la metà dei conduttori è femmina fra i giornalisti dove molti dei giornalisti anche se non proprio la metà ormai sono ragazze sono femmine fra le persone comuni che compaiono in televisione o nei cast delle ficcia mentre invece abbiamo ancora degli sbilanciamenti molto forti con marginalizzazione delle donne in altri settori cioè per esempio fra i politici fra i portatori di istituzioni dove le donne rappresentano soltanto ancora il 22% fra gli esperti dove rappresentano solo il 25% e fra le celebrità per esempio che vengono invitate ai programmi televisivi ora questo giornale che vedete qui questo che ho riprodotto qui si riferisce a diversi decenni fa quando sono stati fatti i primi parlamenti in Italia e le donne iniziavano a fare politica ed entrare in Parlamento e qui giustamente vedete celebrato questo evento 39 donne alla Camera perché allora era una cosa molto positiva però qual è il problema il problema è che questo non deve far notizia non deve più far notizia perché deve entrare regolarmente nell'abitudinario non deve più far notizia come ancora fa notizia che una donna sia scienziato e abbia dei figli perché questo deve diventare normale deve essere normale ora visto che il tempo sta passando velocemente salto la parte sugli implicit bias gli implicit bias un pochino li abbiamo nominati sono quei preconcetti impliciti impliciti perché perché noi non ce li accorgiamo ci derivano dalla cultura dall'ambiente in cui siamo stati esposti sono quelle cose che ci vengono distinto come nelle barzellette la famosissima barzelletta che tutti conoscerete di quando ad un chirurgo viene presentato un ragazzo che appena ha avuto un incidente stranale gli dicono lo devi operare e il chirurgo dice non posso operare è mio figlio e tutti si chiedono ma perché non lo può operare ma perché non lo può operare perché il chirurgo tutti dicono ma forse ha sposato un'altra ma quando si dice il chirurgo si pensa un maschio e invece quel chirurgo è una nonna quindi ecco tutte queste implicit bias devono essere superate la commissione europea ci sta lavorando molto sta emanando dei regolamenti che vengono poi resi pratici quindi messi nella pratica dalle istituzioni dagli enti di ricerca dagli atenei e anche da tutte le aziende in modo da annullare questo implicit bias voglio invece chiudere con l'altro filmato con l'ultimo filmato che è un filmato molto bello che abbiamo girato grazie al supporto dell'osservatorio di Pavia da cui è nata questa indagine sulla presenza delle donne nei media se possiamo come facciamo a far partire il filmato è un filmato che parla di donne scienziato in laboratorio e che diciamo lancia questo messaggio molto positivo sono professore ordinario di analisi numerica presso il dibattimento di matematica dell'università di Pavia qui a un gruppo di cardiologia studiamo studiamo pazienti con malattie genetiche che portano all'arresto cardiaco sono preco ricercatore alla fondazione sempre centro di connessione dell'ingegnere sismica ordinario di farmacologia presso la statale di Milano professoressa in patologia generale all'università degli studi di Milano da piccola volevo fare l'artista volevo fare la ballerina classica avevo una grande voglia di insegnare e quindi insegnavo le mie bambole montavo le bambole per capire il meccanismo con cui potevano aprire e chiudere gli occhi da piccola volevo fare lo scienziato ho sempre avvito e sperato di entrare in questo magico mondo dove si può pensare e lavorare con la propria testa mi è sempre piaciuto cercare di capire e di spingere un pochino più in là in un fine delle cose non è c'è sempre un po' questa incognita della prima di arrivare in fondo una certa cosa cosa troverò però diciamo un fattore pensiero è anche un fattore molto stimolante l'ingegneria è difficile l'ingegneria da uomini è assolutamente tutto comune non bisogna trovarsi di fronte a queste cose per quanto riguarda la capacità intellettuale la capacità logica e razionale sicuramente nessuno più crede e deve credere che le donne ne abbiano di meno e che quindi ci sia meno talento o meno capacità di diventare degli ottimi ricercatori io penso che la scienza sia per tutti quelli che l'avano roba da uomini roba da donne roba da chi ha passione per coprire per imparare per conoscere non è né da donne né da uomo è la scienza per tutti quindi ovviamente anche per noi bisogna avere le capacità e la forza serve un sacco di creatività e di immaginazione non ci crede nessuno ma è così non c'è un discorso di genere c'è proprio un discorso di capacità e di missione è vero che ci sono ancora a mio avviso degli ostacoli che ci vengono proprio d'accordo nel tanto della società quando il bambino aveva due linee di febbre non era il papà che correva a casa il papà doveva lavorare che era la mamma avevo mia figlia la mattina arrivavo con la mia carazzina stavo nel mio studio parlavo con gli studenti cioè mia figlia è nata sostanzialmente questo stadio è ancora strano che un papà si prenda una quaternità per condividere con la mamma quando si hanno i bimbi piccoli e questo non deve essere strano cioè nel futuro questo deve diventare la normalità fare scienza è un'avventura meravigliosa vuole dire studiare per tutta la vita quindi scoprire cose nuove ragionare pensare avventurarsi quello che è la natura la biologia la fisica penso che fare questo lavoro fare la scienziata sia un vero privilegio è talmente forte l'entusiasmo che ti sembra incredibile di poterlo fare come un lavoro che poi ti accompagna che ti permade tutta la vita per sempre da una passione una carica un'energia che anche nei momenti difficili siccome non puoi mollare ti aiuta a uscire dai tuoi problemi personali e a non mollare ad andare avanti e cercare da un punto di vista dei progetti e delle conoscenze di essere sempre presente e quindi di avere sempre la gratificazione di quello che si è riusciti a fare ogni giorno sono estremamente soddisfatta di questo messaggio nonostante le difficoltà non c'è un pezzo della tua testa ma un pezzo della tua testa che va con la comunità cioè la comunità si spera che utilizzerà questo pezzo della tua testa e va avanti questa è la cosa più bella che la gente usa e fa quello che è fatto seguite la vostra passione se amate la matematica se amate la chimica se vi interessa la medicina andate dietro a questa passione questo è un filmato e insomma vorrei lasciarvi un messaggio molto positivo e cioè ce la possiamo fare ce la possiamo fare tutte e soprattutto le ragazze giovani vanno molto incoraggiate a seguire il proprio talento quello che serve è passione talento naturale naturalmente ma questo non dipende dal sesso dipende semplicemente da quello che abbiamo nella nostra testa e dai doni che ci sono stati dati c'è chi è più portato per una cosa che per un'altra ed è questo l'unica cosa che conta seguire la propria inclinazione naturale lavorare molto con grande passione con grande pazienza e ce la si può fare senza rinunciare a nulla perché questo è anche l'altro messaggio importante che dobbiamo dare alle giovani ragazze non dovete scegliere fra una cosa e l'altra cioè fra il fare le scienziate e per esempio avere una famiglia perché potete fare tutte e due le cose richiederà più sacrificio ma che professione esiste che per essere davvero coltivata bene non richieda sacrificio tutte le professioni richiedono impegno richiedono sacrificio e poi danno grandissime soddisfazioni e questo vale anche per la scienza non c'è bisogno di essere dei geni basta essere delle persone intelligenti avere però molta passione e dedizione grazie a tutti allora mentre io inviterei il pubblico a pensare a qualche domanda da fare alla dottoressa Bracchio ci accopo l'occasione per ringraziarla sia a nome di scienza e filosofia di questo preziosissimo intervento sia anche a livello mio personale perché apri una finestra su una cosa con cui sono perfettamente d'accordo infatti la dottoressa Bracchio che è una grandissima scienziata nel campo dei recettori pulinergici giusto? e oltre a avere moltissime pubblicazioni oggi non ci ha parlato della sua materia ma sta affrontando un tema che trovo importantissimo perché è un tema determinante anche per l'evoluzione della nostra società è un tema fondamentale quindi io vorrei capire se nel pubblico c'è qualche domanda che prego e passo il microfono poi intanto grazie dei due video molto belli molto emozionati per quanto riguarda l'esterno noi abbiamo studiato questo database accademia.net in Germania di donne nelle scienziate donne nell'accademia tedesca in cui prendere tutti i dati di queste donne e proporle quando ci sono per esempio dei convegni che sono di soli uomini i cosiddetti manel man panel proporle per fare dei modelli di ruolo ad altre giovani donne proporle nelle commissioni di esame commissioni peer review per le carriere dei ricercatori perché non fare qualcosa di simile in Italia e poi volevo aprire una parentesi io faccio parte del Women Venti un gruppo di engagement del G20 sulla parità di genere e diamo delle raccomandazioni al Women allo G20 sulla parità di genere faccio parte del gruppo di lavoro proprio Digital Empowerment perché il Digital Gap che ha sottolineato è qualcosa di sentito a livello mondiale e quindi che tipo di raccomandazioni dare ad esempio sull'uso e accesso delle tecnologie sul leadership digitale per abbattere quel famoso tetto di cristallo di cui parlava va bene poi no grazie molte per questi commenti per queste due domande che sono molto molto pregnanti molto inerenti l'argomento allora cosa si fa in Italia in Italia qualcosa del genere già c'è ed è previsto anche dalla legislazione che per esempio le commissioni di esami per posizioni universitarie vengano ricoperte in pari misura o comunque vicino al pari perché poi non ci si deve formalizzare per un numero in più o un numero in meno ma che vengano reclutati sia maschi che femmine di solito infatti quando un dipartimento propone un concorso propone una rosa di possibili diciamo candidati commissari da cui poi vengono estratti i nomi dei candidati di quelli che saranno i componenti di quella commissione in questa rosa devono essere rappresentati tutti e due i generi in maniera piuttosto bilanciata naturalmente se ci sono gli esperti in quella determinata materia perché un altro dei problemi che si allaccia immediatamente a quanto tu hai detto è il fatto di delle quote cosiddette quote rosa o quote azzurre nel senso che non è detto non sempre le quote rosa sono un vantaggio perché sono un vantaggio se permettono alle donne qualificate professionalmente di entrare in certi contesti dove non sono rappresentate però bisogna tenere conto che il primo il primo parametro se vogliamo davvero promuovere una società della conoscenza e quindi una società basata sulla condivisione della conoscenza il primo parametro deve essere la qualità poi a parità di qualità quando a parità di qualità ci sono a rappresentare quella qualità in quella materia sia maschi che femmine è giusto ripartire in parti uguali la scelta e quindi chiamare all'interno dei consigli di amministrazione chiamare all'interno delle commissioni all'interno degli organi di governo un pari numero di maschi e di femmine io dico a parità di valore perché secondo me altrimenti si rischia di fare scusatemi il termine dei regali non corretti o dei forti non corretti nei confronti magari dei colleghi maschi che magari sono molto molto bravi ma non vengono selezionati solo perché non ci stanno come numero dobbiamo evitare anche di andare all'opposto è la questione del paradosso dobbiamo cercare di essere unami quello che sta cercando di fare anche il PNRR che come sapete ha tre priorità trasversali oltre che le priorità tematiche del PNRR le tre priorità trasversali che sono giovani gender gap nord-sud quindi superare i divari tra i divari che affliggono il nostro paese la bassa natalità quindi promuovere i giovani come? promuovendo politiche per favorire la famiglia per fare nascere più bambini e per prendersi in carico poi di questi bambini in modo più completo favorendo l'accesso equo dei bambini agli studi maschi o femmine che siano anche qui sempre basandosi solo sulle loro qualità e sui loro talenti quindi quello è il primo divario l'altro è il gender gap il PNRR prevede che almeno il 40% delle posizioni lavorative siano dedicate a donne questa è una cosa molto buona che però per esempio già all'interno degli atenei e delle organizzazioni che ricevono i finanziamenti del PNRR quindi poi devono rispettare i criteri del PNRR questo pone alcuni problemi perché per esempio nei concorsi universitari noi non possiamo fare differenze di genere perché faremo introdurremmo noi un fattore discriminatorio nei confronti dei colleghi maschi quindi adesso c'è c'è una serie di giuristi di costituzionalisti e di legali che stanno cercando di risolvere questo problema è di vedere come fare per raggiungere questo 40% e poi c'è il terzo divario nord-sud in cui il 40% di tutti i fondi devono andare agli istituzioni che sono residenti al sud quindi si sta cercando di raggiungere questa parità la seconda domanda era inerente quindi cosa sta facendo il nostro paese come la Germania sta parlando di 100 esperti noi abbiamo l'etapesta di 100 esperti della fondazione si 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 fondazione Bracco avrete visto che in questi firmati soprattutto nel primo si faceva riferimento alle 100 esperte le 100 esperte è un'iniziativa di fondazione Bracco che ha selezionato basandosi su criteri di qualità e per usare criteri di qualità ha utilizzato l'indice citazionale delle pubblicazioni scientifiche fatte da donne no? quindi è andato a guardarsi proprio nelle pubblicazioni scientifiche dove comparivano delle donne e se queste pubblicazioni erano molto citate da altri perché quando una pubblicazione scientifica è citata da altri vuol dire che è importante vuol dire che ha influenzato quelli che venivano dopo no? perché io leggo le pubblicazioni scientifiche e mi ispiro alle novità contenute in queste pubblicazioni per fare la mia ricerca futura è chiaro che nel fare la mia ricerca futura io prendo proprio spunto dalle pubblicazioni quindi quando poi scrivo il risultato del mio lavoro cito no? dico come dimostrato da Pinco Pallino no? io ho seguito quel metodo e ho fatto così 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 fondazione Branco basandosi su questi criteri di qualità delle pubblicazioni scientifiche nel 2016 selezionò 100 donne in ambito scientifico ho avuto l'onore di essere selezionata perché poi sono entrata anche nel circuito divulgativo no? perché ritengo utile esporre la propria esperienza per richiamare nuove leve all'interno della ricerca femminile e come per dimostrare che le 100 esperte ci sono cioè che ci sono le esperte nelle varie materie dopo quello ha fatto le 100 esperte nell'economia per dimostrare che anche non solo nelle scienze STEM ma anche nell'economia le donne preparate le professioniste ci sono e quindi devono essere anche loro consultate possono essere consultate che poi ha fatto addirittura le esperte in filosofia per dirvi anche l'ambito a cui estendere perché le esperte non sono soltanto per le scienze STEM ma per qualunque settore soprattutto in un momento come oggi dove noi abbiamo disperatamente bisogno di tutti abbiamo bisogno degli esperti scienziati abbiamo bisogno degli economisti abbiamo bisogno dei sociologi abbiamo bisogno dei filosofi perché anche per disegnare gli algoritmi noi abbiamo bisogno degli umanisti e questo qui è il momento è un momento speciale dal punto di vista culturale in cui veramente il contributo di tutti può essere dato e ascoltato adesso si parla di STEM perché a quello STEM è stata aggiunta una A STEM che vuol dire fra l'altro vapore in inglese mentre STEM vuol dire seme quindi sono acronimi che hanno anche un loro significato simbolico e quella A sta per arts e per arti si intendono tutte le discipline umanistiche e questo è un momento veramente straordinario della conoscenza umana perché è un momento in cui possiamo e dobbiamo mescolarci e l'inserimento delle donne nel mondo produttivo nel mondo della ricerca nelle istituzioni non è soltanto una concessione fra virgolette che va fatta alle donne ma è un'occasione da non mancare per non mancare per non privare il paese del contributo femminile quindi del contributo che le teste femminili le forze lavoro femminile possono dare al paese che è un contributo di valor pari a quello degli uomini quindi non è assolutamente neanche per sminuire il contributo fondamentale dato dagli uomini ma è per arricchirlo e per lavorare insieme perché come abbiamo visto soltanto lavorando insieme possiamo evitare dei bias impliciti che potrebbero danneggiarci tutti concordo pienamente una cosa soltanto che non ricordo sulle quote perché ci sono molti maschi competenti nelle condizioni di esame molti maschi competenti della reposizione di differenziali non ho capito perché anche i due competenti non possono fare la cosa ma non sono tantissimi anni allora diciamo io non voglio far polemica perché in realtà lavoro tantissimo con maschi tantissimo con donne e devo dire che per me io ho notato che l'unica cosa che veramente conta è la voglia di collaborare e io ho trovato donne fantastiche con cui collaborare ma anche uomini fantastici come pure ho trovato uomini e donne antipatici con cui non sono riuscita a collaborare quindi non è una questione né femminile né maschile ma è una questione proprio anche se volete di attitudini personali di abitudini tutto quello che volete ora io credo anche una cosa che è anche vero quello che tu hai detto che ci sono nelle varie posizioni anche uomini incompetenti come pure in tante posizioni anche se più rare semplicemente perché ce n'è di meno donne incompetenti ma questo lavorare insieme è anche un grande stimolo personale per migliorarsi perché nel momento in cui veramente si lavora insieme si dà ciascuno il meglio che può dare il contributo quindi ognuno fa la sua parte e questo aiuta moltissimo quindi anche l'abitudine al lavoro in team che non è un'abitudine tipicamente italiana diciamocelo perché è molto più consueto lavorare in team in paesi stranieri noi lo stiamo imparando ma noi italiani siamo molto individualisti in tutto anche nella scienza per cui dobbiamo primeggiare maschi e femmine dobbiamo primeggiare ecco anche lì dobbiamo imparare e metterci insieme senza come dire preconcetti e contaminandoci ci aiuta ad imparare anche questo anche il lavoro di team cosa infatti il principio anche della cross fertilizzazione la contaminazione delle idee i principi dell'integrazione della interdisciplinarità della collaborazione sono tutte diciamo cardini che dovrebbero essere ormai e fortuna su questo come ha richiamato diciamo ci aiuta anche l'Unione Europea dove delle politiche trasversali ma nei fondi strutturali in qualsiasi fonte di finanziamento che poi ricade sulle persone inserisce questo principio e quindi con forza e io ho una domanda le volevo fare approfitto poi magari se nel pubblico c'è qualcun altro così intanto il ruolo dell'orientamento anche diciamo nelle scuole che generalmente avviene nelle scuole superiori magari nel quarto anno ma secondo me è un orientamento di genere che andrebbe fatto fin dalle scuole dell'infanzia fin dalle scuole e andrebbe fatto proprio a carico di figure magari femminile perché se no ritorniamo al rischio del paradosso insomma così quindi le volevo chiedere che cosa ne pensa a questo proposito ma questa è un'osservazione importantissima perché secondo me non basta arrivare a 18 anni l'orientamento scolastico per la scelta poi dell'università dei corsi di laurea eccetera è importantissimo però si deve arrivare a questo momento con i ragazzi già preparati ed è vero si deve iniziare dall'asilo secondo me dall'asilo e certi insiste moltissimo perché ad esempio sempre nel nostro PNRR poi speriamo ovviamente di riuscire a realizzare tutti questi obiettivi abbiamo 191 miliardi che ci sono stati che ci vengono prestati non è che ce li è andati già tutti ci danno raggiungimento dei vari obiettivi intermedi però speriamo davvero che questi 191 miliardi ci aiutino da qui al 2025 a fare il grande cambio culturale un cambio di sistema proprio di paradigma e nella missione M4 che è quella università di ricerca C1 componente 1 è la missione sull'istruzione ed è una missione sull'istruzione che considera l'istruzione proprio dai primi momenti di vita dal nido dall'asilo è da lì che dobbiamo incominciare non ci sono per esempio giochi da femminuccia ma ci sono i giochi che piacciono quindi è un cambiamento culturale enorme come dice la collega che va fatto da subito quando si entra in un negozio e si chiede un giocattolo e ti chiedono è un maschietto o una femminuccia non ti dovrebbero chiedere questo ti dovrebbero chiedere ma che cosa gli piace fare o le piace fare perché anche ai maschietti può piacere di giocare con le bambole come pure le femminucce piace fare le costruzioni dipende proprio dall'indole personale quindi senza snaturare nessuno perché ci sono comunque dei ruoli biologici inevitabili che fanno parte del nostro essere umano fare i figli accudire i figli o che poi accudire i figli si può condividere l'accudimento in parti uguali dove ciascuno dà il meglio che può dare anche nella organizzazione della famiglia ma quello che deve fare che vuole fare il PNRR con l'M4C1 è consentire questa formazione equa a tutti supportando anche la famiglia con le strutture costruendo asili costruendo nidi costruendo posti dove noi possiamo lasciare i nostri bambini in mani sicure ma non solo perché i bambini non cadono e non si fanno male ma perché si formano e si formano in una maniera proprio completa senza dei preconcetti ed è questo che si deve iniziare fin dall'asilo secondo me come pure per la ricerca e questo vale tantissimo si deve proprio insegnare il rigore metodologico che poi è una cosa importantissima che ti aiuta in tutti gli aspetti della vita fin da piccolini perché se noi incominciamo a spiegare ai bambini che le ipotesi si fanno su fatti partendo da fatti e non da cose basate su nulla insegniamo ai nostri ragazzi maschi o femmine che siano a riconoscere le fake news da quello che è la verità no? perché? perché le fake news sono paizzane che vengono messe nel web e che non hanno nessun fondamento ma se noi insegniamo ai nostri bambini a non credere a tutto ma ad andare a fare le loro verifiche personali che quando ti dicono che l'asilo vola tu devi chiedere ma dimmi dove l'hai visto dove l'hai letto e fammi vedere le prove no? ecco se noi insegniamo questo che è il rigore metodologico e al tempo stesso vi insegniamo anche il rigore etico di comportamento e quindi a superare le diversità e a considerare invece la diversità come una grandissima risorsa una grandissima risorsa che va condivisa ecco che noi stiamo già formando non solo dei magari possibili futuri scienziati ma dei bravi cittadini no? e credo che questo sia proprio nel grande cambiamento culturale che il nostro paese come anche tanti altri paesi perché non è che noi in Italia siamo poi così indietro rispetto agli altri devono fare per la vera parità ci sono altre domande? approfittiamo perché siamo soli quindi non ci abbiamo nessuno dopo prego buonasera buonasera mi presento io sono una giornalista sono qui partecipo a questo festival questa festa da tanti anni non in prima persona accompagno mio marito sono molto contenta è un offensiato sono contenta di trascorrere qualche giorno qui sono venuta a sentire la professoressa perché sono molto interessata a questi temi legati alla parità ho fondato in Sardegna io sono la giornalista Rai ho fondato in Sardegna Giulia Giornaliste che appunto che non è stata citata quindi sottolineo allora io sono la coordinatrice di Giulia Giornaliste Giulia è un acronimo che vuol dire giornaliste uniti Susi Rocchi io mi chiamo Susi Rocchi sì ecco questo strumento importantissimo è utilissimo le 100 esperte contro gli stereotipi che poi sono diventate molto di più che 100 è nato appunto nella collaborazione tra la fondazione Bracco l'osservatorio di Pavia Giulia Giornaliste perché è nato come uno strumento certamente utilissimo per chi fa ricerca per la comunità scientifica nei vari settori che poi adesso si è allargata come si è allargato anche come ricerca di curricula le ha citato mi pare le filosofe ma anche le storiche recentemente è nato principalmente come uno strumento di lavoro per noi giornalisti per dare visibilità alle donne in media perché riallacciandomi a quello che lei ha detto la visibilità delle donne delle esperte in particolare in tutti questi settori non solo le esperte STEM è minima nei media io mi permetto di darvi un dato siccome ci lavoro molto sono stata presidente del Corecom in Sardegna fino a settembre scorso ho attivato tantissimi studi e analisi attraverso anche i finanziamenti del Corecom sulla parità e sulla presenza delle donne anche nelle nostre emittenti private in Sardegna ci stiamo lavorando moltissimo allora l'ultimo monitoraggio che è il Global Media Monitoring Project che è il monitoraggio sulla presenza delle donne nelle emittenti televisive del mondo è lo studio più prestigioso e longevo che esiste al mondo e che si compie dal 1995 prima conferenza dell'ONU sulle donne fatta a Pechino ogni 5 anni quindi l'ultimo monitoraggio è stato compiuto nel 2020 in piena pandemia su 145 paesi del mondo e non ricordo quante emittenti compresa la RAI televisive telegiornali parliamo di spazi di informazione italiani anche col referente osservatorio di Pavia che è appunto referente di questo monitoraggio in Italia ci ha dato dei numeri allarmanti la presenza delle donne negli spazi dell'informazione non stiamo parlando di talk show o di Sanremo ma di informazione quindi telegiornali approfondimenti trasmissione appunto di approfondimento delle notizie è pari al 23% che è uno spazio minimo le esperte le esperte nei 5 anni diciamo tra il 2015 e il 2020 quindi per l'ultimo monitoraggio in Italia hanno tenuto una presenza del 12% io le voglio sottolineare questo numero questo dato 5 anni prima nel 2015 nel penultimo monitoraggio le esperte presenti nell'informazione italiana erano del 18% quindi che cosa significa noi ci abbiamo ragionato noi giornaliste c'è stato veramente un passaggio all'indietro di 6 punti percentuali che non è poco è tantissimo però questo diciamo battuta d'arresto si è verificata all'interno di un contesto che ci fa riflettere cioè piena pandemia quindi significa che i flussi comunicativi sulla pandemia quindi sui comportamenti sociali sui vaccini sul virus sui decreti eccetera sono stati quasi del tutto esclusivamente affidati agli uomini che hanno parlato in qualità di esperti di medici di tecnici di sanitari di infermieri le donne sono state rappresentate al 12% come esperte quindi 88% la visione che noi abbiamo avuto in Italia è stata affidata agli uomini per l'88% quindi anche di virus noi abbiamo parlato attraverso voce e interpretazione e visione ottica maschili quindi io le chiedo che cosa è successo secondo lei perché insomma anziché andare avanti siamo veramente tornati indietro questo vuol dire che quando l'informazione passatemi termine cannibalizza su un tema le notizie perché siamo stati anche davanti ad un fenomeno dell'infodemia però quando l'informazione quindi punta il suo core business trattando alcuni temi in questo caso è stata la pandemia e il virus guarda caso poi si rivolge da spazio agli esperti e quindi cos'è successo due mi permetto di fare un'ultimissima osservazione veloce ho apprezzato molto il video io sono una giornata televisiva quindi lavoro molto sul video quindi apprezzo moltissimo il primo l'ultimo l'ho apprezzato persone eccezionali specialiste però mi chiedo come mai non avete rispettato il linguaggio di genere mi è sembrato veramente un aspetto che ha un pochettino come dire inchiepidito anche la mia passione a vedere questo questo video perché insomma tutto ciò che non si nomina non esiste il neutro io non voglio aprire una conferenza sul linguaggio perché siamo veramente divisi sull'uso dello scerva sull'asterisco sul linguaggio inclusivo eccetera però insomma perlomeno arrivare ad una conquista che ormai diventa una conquista necessaria è tradizionale sulla lingua riconoscendo il femminile soprattutto quando diciamo lavoriamo all'interno di temi così importanti che il riconoscimento della parità io faccio so perché noi lavoriamo io lavoro molto su linguaggio anche nella mia attività grazie sono due punti estremamente interessanti ci tengo a precisare che anche se non ho potuto citare tutti perché questi video sono stati anche sponsorizzati dalla commissione europea sui siti dei video quindi quelli che noi abbiamo cliccato c'è tutto il riconoscimento a tutti i stakeholder e tutti i collaboratori che hanno potuto portare la generazione di questi video incluso Giulia fra l'altro io conosco molte colleghe sue che fanno parte di Giulia con le quali ho Luisella Seveso tutta una serie di colleghi con le quali ho dei rapporti molto veramente molto amichevoli danni Allora la prima cosa cioè quindi la maschilizzazione dell'informazione secondo me è molto significativa perché quelle che noi riteniamo delle conquiste faticosamente raggiunte vengono messe a rischio con la prima emergenza questo succede sempre succede nel successo nella pandemia succede nelle emergenze anche nella guerra succede in tutte le situazioni in cui c'è un arretramento di quelle che sono le condizioni di normalità allora ecco che lì se si deve sacrificare qualcuno si sacrifica la donna quello che secondo me è successo poi ci sono economisti esperti che stanno lavorando su questo argomento molto più capaci di me ma per esempio anche in termini di perdita di lavoro se noi andiamo a guardare il numero di persone solo nella regione di Lombardia conosco questi dati per la Lombardia che hanno perso il lavoro causa pandemia l'80% di queste sono donne perché quando c'è da tagliare da tagliare proprio sul personale perché c'è una crisi economica si taglia sui contratti che sono meno solidi perché lì c'è proprio un bias un problema all'origine qui è un pochino accennato anche durante la presentazione alle donne spesso vengono offerti dei contratti di minor valore dei contratti a termine dei contratti che quando scadono non necessariamente vengono rinnovati mentre molto spesso gli uomini di pari professionalità riescono a guadagnarsi contratti a tempo indeterminato quindi una cosa molto banale ma concreta che purtroppo è successo nella pandemia che molte donne si sono ritrovate anche professioniste di valore come nel giornalismo si sono ritrovate senza contratto perché avevano contratti che scadevano e non sono stati rinnovati perché c'era da tagliare dappertutto perché tutto era andato in crisi quindi c'è questo problema al quale aggiungiamo vogliamo aggiungere anche il carico di lavoro raddoppiato per le donne che le donne stando a casa smart working si pensava che lo smart working fosse una misura per rendere più semplice il lavoro in parte lo è per carità in alcune circostanze lo può essere ma in altre per le donne io vedo anche molte collaboratrici da noi si è rivelato un'arma doppio taglio perché loro si sono ritrovate a casa con la cura dei figli che non potevano andare a scuola perché le scuole erano chiuse e oltretutto magari con la cura sulle loro spalle la cura dell'anziano o degli anziani presenti in casa molte sono state bravissime si sono barcamenate fra questi diecimila compiti diversi ma io ho visto collaboratrici andare in grande difficoltà perché magari si lavorava si facevano i collegamenti video perché non si potevano fare le riunioni normali in presenza e ci sono i bambini in casa che continuano ad andare lì dalla mamma poi naturalmente lo sappiamo chi ha figli sa benissimo che se la mamma si mette a fare o anche il papà si mette con loro ma si mette a fare un'altra cosa immediatamente l'attenzione deve ritornare a loro quindi vengono lì continuamente a farti vedere qualcosa pur di attrarre la tua attenzione quindi ho visto la grande difficoltà delle donne di far fronte a questa situazione in condizioni economiche nettamente disagiate rispetto a quelle del maschio da qui e da come ne usciamo qui garantendo parità di contratti di livello qualitativo lavorativo a tutti maschi e femmine in modo tale che alla prima emergenza chi viene tagliato non siano soltanto le donne anche perché poi purtroppo c'è ancora questo concetto prevale questo concetto del fatto che comunque se si deve tagliare è meglio tagliare una donna piuttosto che l'uomo perché c'è ancora questo ruolo sociale dell'uomo io non voglio né condannare né biasimare dico i fatti come sono è così e purtroppo questi fatti ancora li subiamo e da qui il grande cambiamento culturale che dobbiamo mettere in atto poi il linguaggio poverini sì tutto il giorno allora sì 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 ma poverini sì 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 allora andiamo volevo soltanto dire una cosa sul linguaggio di genere ecco allora su quello ci sono punti di vista diversi no allora diciamo questo video l'ultimo video è stato fatto nel 2017 da allora sono passati cinque anni e anche noi scienziate ci siamo sensibilizzate di più in questo per esempio il nostro Ateneo ha emanato un vocabolario di genere al cui adesso ci adegueremmo perché è logico fare che si ci adegueremmo